Da ieri Aide Morotti non è più l'assessore alla sostenibilità del comune di Pesaro, ma come annunciato dal sindaco Matteo Ricci, continuerà a far parte della squadra comunale andando a ricoprire un ruolo di gestione in temi energetici in una società partecipata. Proprio su queste tematiche la Morotti è stata regista nelle ultime settimane di una operazione importante sulle sperimentazioni di risparmio energetico, quello della creazione di una comunità solare che sta coinvolgendo 12 famiglie pesaresi scelta campione in un progetto realizzato con l'azienda Renco e il Centro per le Comunità Solari dell'Università di Bologna. Le comunità solari sono una risposta semplificata, se volete passarmi il termine, a quelli che sono i principi che regolano le comunità energetiche. Quindi mentre le comunità energetiche hanno un percorso stabilito e abbastanza complicato a livello burocratico, la comunità solare invece è un percorso molto più snello e che prevede che ci sia l'apporto di quello che noi chiamiamo un grande produttore, quindi con pannelli solari. Quindi questa è l'operazione che abbiamo proposto a Renco, che ha messo a disposizione i suoi impianti e ci sono già 12 famiglie che sono state usate come pilota per poter capire quali erano le eventuali criticità del progetto che stanno autoconsumando l'energia che Renco produce e da questo verrà fuori alla fine dell'anno, quindi una volta l'anno avverrà un rimborso tramite bolletta del proprio gestore rispetto a quelli che sono i consumi. Diciamo che abbiamo fatto una valutazione di queste 12 famiglie, si sono occupate di questo proprio la comunità solari, che sono già, vorrei ricordare, una realtà che nel Comune di Medicina esiste da 11 anni quasi, quindi non ci siamo inventati nulla di nuovo, ma arriviamo su un progetto che già è stato messo in piedi e che già funziona, quindi abbiamo cercato di replicare la bontà di questa cosa anche a Pesaro. Il principio si basa sul fatto che una grande azienda possa fare del welfare, quindi mettere a disposizione i propri impianti, mettere a disposizione una base economica per permettere alle famiglie di entrare all'interno di comunità solari, per poter avere lo smart meter a casa, perché ovviamente è necessario controllare e quantificare quanti sono i kilowatt prodotti, poi i kilowatt autoconsumati. Per le famiglie cambia dunque il paradigma di utilizzo di elettrodomestici in base ai momenti di massima produzione di energia solare. Per fare tutto questo le famiglie sono aiutate, come dicevo, da questi smart meter, che hanno, semplificando al massimo, una specie di semaforino sopra, in cui indicano quanti kilowatt vengono prodotti e quindi quali sono i momenti migliori nella giornata per consumare, quindi semaforo verde, semaforo giallo o semaforo rosso. Per cui è un procedimento che tutto sommato nella sostanza è molto semplice, ma la ricaduta sociale è veramente grande. Abbiamo valutato che le famiglie, le 12 famiglie, studiando le bollette dell'anno precedente, di un anno intero, avevano consumato tutte non meno di 600 euro e si ipotizza che con un buon utilizzo di quelle che sono le risorse di comunità solari possano abbattere questo costo anche di cifre che girano intorno al 50%, quindi un buon aiuto per le famiglie.